Sono stato in vacanza, quindi torniamo e vediamo come sono le gambe dopo un po' di stacco, però cercheremo di dare un po' di spettacolo per il pubblico, per quello che si merita e sarà una bella manifestazione, ci sono tanti campioni e cercheremo di far divertire la gente. La medaglia al collo può aiutare la performance? Diciamo che è un grande stimolo, quest'anno abbiamo dato tanto e veniamo a finire al meglio questo 2021. Poi il 2022 si va a correre la moglie. Viviani che viene in squadra con te? È un bello stimolo, è come se fosse un padre per tanti giovani, è stato un grande stimolo per me anche migliorare per la pista, seguendo le sue ombre, orme e anche adesso vediamo come ci comporteremo durante la stagione insieme su strada. Per le prossime stagioni quello che ha fatto Corbelli alla Paris-Giroubaix ti stuzzica un po', corsi a tappe, come la vedi? Diciamo che è una bella gara, con l'anno appena nominata, speriamo di essere competitivi l'anno prossimo, vediamo come ci si rigenerà l'inizio di stagione con le classiche e poi speriamo che le gambe reggano. Grazie.